Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione enuncieremo, senza dimostrarlo, il teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone, facendo riferimento al caso di funzioni crescenti, anche in senso lato, e considerando un intorno destro del punto C. La dimostrazione in ogni caso è del tutto analoga a quella già esaminata nel caso di intorno sinistro del punto C. Faremo alla fine anche una semplice considerazione nel caso riguardante le funzioni decrescenti. Sia y uguale f di x, una funzione definita in un intorno destro i del punto C, ed iv crescente anche in senso lato. Allora la funzione f di x ammette limite per x tendente a c per eccesso, e, in particolare, possono verificarsi due casi. Uno, la funzione è limitata inferiormente in i, con estremo inferiore l, e allora risulta limite per x che tende a c più di f di x uguale l più. Due, la funzione non è limitata inferiormente e allora risulta limite per x che tende a c più di f di x uguale meno infinito. Il teorema vale anche se c è uguale a meno infinito. Per quanto riguarda le funzioni decrescenti, valgono i teoremi corrispondenti a quelli enunciati per le funzioni crescenti. Bene ragazzi, non essendoci altro in questa lezione, sperando che sia tutto chiaro, vi ringrazio per averla seguita.